Ma Fabiola dice di non preoccuparmi, che sono degli stupidi e devo ignorarli. Un giorno i miei genitori mi portano via. Ero triste perché io volevo uscire con l'amica mia. Siamo arrivati ad un grande edificio. Al secondo piano i miei sono entrati in un ufficio. Mi hanno chiesto di stare un attimo fuori, mentre loro stavano parlando con dottori. Dopo un po' di tempo ero stanca ad aspettare e mi sono avvicinata alla porta ad ascoltare. Quello che ho sentito spero sia una bugia. Hanno detto vostra figlia ha schizofrenia.